Signore e signori ho cercato di sfuggire la legge ma non ce l'ho fatta però diciamo che in sto caso non mi è andata malissimo posso essere quasi contento di aver superato i limiti di velocità allora allora cominciamo a interrogarla sul codice della strada quali sono no 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 gli ultimi gli ultimi articoli che è contravvenuto nell'ultimo anno dai solo questo io non lavoro nel stradale nessuno nessuno no 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 lei è corretta lei è corretta come come posso darti del tuo o devo dare da lei no no dimmi pure del tuo ti do pure del tuo va bene allora come ti chiami Jessica Jessica mamma mia una polizzata che si chiama Jessica già sto male allora e da dove vieni dalla Sicilia no siciliana madonna sto male due volte bene bene siciliana e cosa ti porta tu regia tu sei sempre troppo ingrifato dalle amiche tutti ingrifico le amiche ti porta qui cosa l'amore l'amore per chi per il mio futuro marito riprova per il mio futuro marito riprova di nuovo per il mio ragazzo tra un mese futuro marito riprova ancora ti do un suggerimento che arriva esattamente la risposta giusta è per te prova per te per me no cioè tu devi dire per te allora l'amore per chi no per te fa un culo niente non ce l'ho fatta neanche a traviarle la risposta ci sono riuscito niente chi è il fortunato a cui stringerò la mano massimo ma anche di di peso no dai nella media nella media nella media nella media ok me la posso giocare allora no no scherzo scherzo ormai lei non avevo capito ma è presente la vostra amica l'avete lasciata in sicilia no perché mi sembra un attimino vabbè si è emozionata bene bene allora quando ti sposi il 10 maggio 10 maggio ok dove giorni esatti scendi giù sì più o meno ho sentito parlare dicono che non esista a volte non esiste 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 quindi quando mandate a canicattì qualcuno non è che lo mandate in un posto sperduto ma fisicamente da qualche parte ok bene bene e no non so vuoi dire qualcosa al tuo massimo vuoi tranquillizzarlo amore tutto a posto siamo ci sposiamo tra 40 giorni non me ne sono pentita ripetelo ripetelo amore ti amo ci sposiamo tra 40 giorni non mi sono pentita qui bene 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 mi è piaciuto il passaggio ci sposiamo tra 40 giorni come se lui se ne fosse dimenticato e quindi come dire segna ogni giorno dico magari segnatelo un attimino in agenda così se ti rimane un buco benissimo allora salutiamo anche le amiche della sposa e pseudo poliziotte non lo so papà dov'è ucchia papà è una notiziona è uno scoop è uno scoop bello mamma zia amiche benissimo ciao ragazzi e ciao soprattutto lei